Questo chiaramente è fatto sotto forma di amuleto e miniatura, ma i sai tradizionali possono essere grossi anche più di un metro, un metro e mezzo. Questa è una tradizionale trappola per pesci thailandese, che in seguito è diventato un portafortuna chiamato sai daksap. Anche il sai quindi fa sempre parte di amuleti e raffigura un legame tra il popolo e la natura. Il sai sarebbe un cesto in bambù realizzato con due aperture speciali al suo interno, dove appunto i pesci potevano entrare nel cesto ma non erano in grado di uscire. Quindi in questo caso, essendo parte di amuleto, permette alla ricchezza di entrare in tuo possesso, ma non permette che ti sfuga tra le dita e te la mantiene al sicuro, al suo interno. Anche qui viene raffigurata Menanqua, sarebbe la dea della ricchezza e fortuna. Si può riconoscere perché ha la mano destra alzata in segno di cenno, però in questo caso non tiene la sacca di monete sul grembo, ma dovrebbero essere queste qui. E poi qui chiaramente vengono raffigurati i pesci. Per riuscire ad avere l'effetto di fortuna e denaro andrebbe appesa all'interno della casa, con la bocca riporta verso l'esterno, sia del negozio o abitazione. Ma non va mai puntata la bocca del sai né di lato né all'interno della casa. In questo caso allontana la fortuna dai proprietari, sia di attività ma anche di abitazioni. Grazie